Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Nadia e sono iscritta al primo anno del corso di laurea magistrale in chimica. Ti ho sempre mostrato un certo interesse per le materie scientifiche e una volta decisa di iscrivermi a chimica, quello che cercavo era una realtà accogliente e raccolta, una realtà familiare, un po' per propensione, per carattere, ma soprattutto per essere seguita al meglio durante il mio percorso di studi. Ed è proprio questo quello che per me significa studiare chimica all'insubria. Sin dal primo giorno ho trovato una realtà familiare dove centrale non è solo il rapporto tra gli studenti, ma anche e soprattutto tra docenti e studenti. Il dipartimento di chimica è una piccola realtà in cui i professori sono molto disponibili, sono sempre attenti e vicini ai bisogni degli studenti, ai quali sono offerti, oltre al laboratorio didattico e di tirocinio, anche altri servizi, quali l'assistenza nello studio mediante servizi di tutoraggio, piuttosto che occasione di approfondimento di alcune tematiche con i miei seminari. Per chi vuole avvicinarsi al mondo delle aziende, non mancano quelli che sono degli appositi corsi, oltre che ai molti contatti che i professori hanno con le aziende esterne. E cosa dire, un grande in bocca al lupo a tutti!